Carnevale estivo sì, carnevale estivo no, cosa ne pensi? È un peccato che non lo vogliono fare, perché io sono abituato da quanto ero bambino a vedere il carnevale estivo e invernale. E quindi è bene che ci sia? E sarebbe la cosa migliore, non solo per noi cittadini fanesi, anche per la gente che viene a trovarci qui e spende i soldi. Quindi insomma è un buon viatico di promozione, quando poi lo fanno anche altri dispiace ancora di più. No, non lo dovrebbero fare, perché questa è una tradizione fanese. Io il carnevale lo vivo sempre a febbraio, per cui mi sembra che sia più opportuno farlo a febbraio, però è il mio parere. Da dove viene? Da Conegliano. Ecco, qui a Fano c'è un carnevale che si fa anche d'estate per farlo vedere ai turisti, cosa le può pensare di questa? L'ho già visto una volta, beh, era una bella occasione perché venendo d'estate solo ho avuto l'opportunità di vederlo. Però l'atmosfera è un po' diversa, va bene tutte e due, allora per chi è lontano va bene d'estate, magari per la gente di qua ha più valore nel periodo giusto, insomma. Io non ci vado manco d'inverno. Ah, quindi non le piace né d'estate né d'inverno. Comunque attira molta gente, è bello, vedo la televisione, adesso fanno tv e così lo seguo la televisione. Non fanno? No, non c'hanno i soldi. Peggio per loro. Da dove viene signora? Da Torino. Da Torino? Io dal 62 che vengo a Fano. Complimenti, allora il carnevale estivo lo vedeva? Certo che lo vedeva, venivo anche l'invernale. Ah, benissimo, quest'anno il carnevale estivo non lo fanno, quindi dispiace. Come mai? Eh, mancanza di fondi. Eh, quello è triste, manca tanti.